Più autonomia alle regioni per la fase 2. C'è qualcosa da rivedere nel rapporto tra lo Stato centrale e le regioni anche in futuro? Io credo che dobbiamo lavorare insieme così come stiamo facendo. Oggi siamo ancora dentro l'epidemia. L'epidemia è in una fase calante, grazie al comportamento straordinario delle donne e degli uomini del nostro Paese e grazie alle misure rigide che abbiamo dovuto adottare. Ma la partita non è finita, il nemico non è sconfitto e Stato e regioni devono lavorare insieme giorno dopo giorno per vincere questa partita.